Ragazzi io ci sono, ho praticamente già vinto Ma se non ti ricordi neanche cosa hai mangiato a pranzo Ma è tutto questo il mio taccuino Facciamo piano, c'è il nonno che dorme E comunque ho mangiato pizza Allora Con la fune, in cucina, Miss Scarlet No, allora non era quella Ma quella chi? Scarlet, la cucina o la fune? Ma Colonello Mustard in cucina con il pugnale E tu come sei arrivato in cucina? Semplice, ho usato il passaggio segreto Certo che sei davvero bravo, è decifrare gli indizi Guarda, impara Plum, in biblioteca col candeliere È tutto sul mio taccuino Guarda e impara Fa una cosa, sei neanche a sconfitta in questo giro Mrs. Peacock, all chiave inglese Il reverendo Green nel salotto con la rivoltella Veranda, dottoressa Orchide, la spranga Il colonello Mustard con la fune nella biblioteca Miss Scarlet con il candeliere in sala da pranzo Signale, cucina e professor Plano È stato il reverendo Green nell'ingresso con la serra Ma come con la serra? Ma basta! È stato Mrs. Peacock nella sala del biliardo con la rivoltella Accuso formalmente Mrs. Peacock di aver assassinato il dottor Black nella sala del biliardo con la rivoltella Esatto Rivincita Grazie a tutti